Intorno alle 17 mia moglie si è assentata da casa e la casa è rimasta vuota da sola, è rientrata intorno alle 18 e abbiamo trovato la sorpresa. Una pessima sorpresa per Fabrizio Campagnol e la sua famiglia. La camera da letto devastata è solo quella per il semplice motivo che i ladri non hanno avuto tempo di rovestare altrove, in questa abitazione di via Levada a San Martino di San Biagio di Callalta. Erano entrati forzando una finestra sul retro, arrivati forse dai campi, spariti ori e anche una scacciacani deterrente ormai inutile per i malviventi. Bottino non consistente ma il valore è relativo. Un discorso affettivo, erano tutte collanine, orecchini di mia moglie e anche una collanina di mia figlia, di conseguenza erano cose affettive più che sia perché poi l'importo totale sarà un 2000 euro quindi non penso di più. Di conseguenza non è quello che sposta in una famiglia, la cosa è che erano ricordi, erano affetti, cose che avevamo da tanto tempo. La sensazione inquietante è quella di essere stati monitorati dai ladri. Un'auto sospetta è stata segnalata in quelle ore proprio a San Biagio. Sicuramente qualcuno sapeva o comunque ci ha controllato perché non succede quasi mai che la casa rimanga vuota, quindi bene o male noi siamo un 5 in famiglia e di conseguenza uno a casa c'è sempre. Fatalità, ieri sera la casa per un'oretta è rimasta vuota e là ci hanno castigato. Non la prima volta per Fabrizio e la sua famiglia, quasi rassegnati ormai a una situazione cronica. Una volta, due volte anche all'anno ci sono sempre fatti i vivi. Il senso di impotenza di fronte a queste cose c'è sempre, nel senso che una volta che hai subito una cosa del genere fai mille pensieri comunque, quello che si presenta sempre appunto è questo senso di impotenza.